Inaugurazione solenne dell'anno accademico dell'Università Gabriele D'Annunzio questa mattina a Chieti, dove il magnifico rettore Sergio Caputi, alla presenza delle massime autorità politiche, civili e religiose, ha portato il suo saluto, sottolineando come quello odierno sia davvero un giorno di festa. Per me, oltre al fatto istituzionale, è una giornata di gioia perché si rientra nella quasi normalità, perché riusciamo a fare la nostra inaugurazione dell'anno accademico che l'anno scorso abbiamo dovuto lasciare perdere per ovvi motivi e è un giorno di festa anche perché la Corte dei Conti nella giornata di ieri ci ha dato veramente un impulso positivo, una valutazione positiva sulla gestione che abbiamo tenuto in questi anni, in particolare nel 2020. Abbiamo portato un utile importante di 9,3 milioni di euro con degli investimenti infrastrutturali intorno ai 16-17 milioni di euro, quindi la gestione è tranquillamente in positivo e di questo noi ne siamo contenti perché non c'è niente di più bello che qualcun altro ti dica che hai lavorato bene. Nel corso dell'evento il professor Marco Nofri, ordinario di Neurologia alla D'Annunzio, ha tenuto la produzione sul tema Un mondo a sé, la straordinaria scoperta dei meccanismi della psicosi, allucinazioni, isteria, delirio. È stata poi la volta del dottor Fabrizio Mazzeo che ha portato la sua testimonianza in rappresentanza dei laureati di eccellenza dell'Ateneo. La cerimonia si è conclusa con il conferimento dell'Ordine della Minerva, la onorificenza dell'Università degli Studi Gabriele D'Annunzio al generale di Corpo d'Armata Giovanni Caravelli.